ciao ragazzi un saluto a tutto il gruppo eccoci qui in un nuovo video prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un bel like e iscrivervi anche sul gruppo facebook allora se avete visto il video precedente ho montato questi areatori 1 e 2 perché erano vecchi erano da cambiare cambiati tutti e due vedete ho messo il terostrat più largo e poi come ho detto nel video precedente anche segillato sia dentro sia qui però per andare a vedere meglio come è venuto il montaggio andate a vedere il video precedente allora oggi andremo a fare il secondo step il secondo step riguarda l'impermeabilizzazione allora ho fatto una sorta di schermatura con nastro carta quindi materiale nastro carta guanti una pezza di cotone diluente e l'elsica 5 2 20 fiber che ho già utilizzato per quanto riguarda l'impermeabilizzazione della parete anteriore tutta la parete anteriore con i profili adesso andremo a fare un lavoro simile sia sul cappello per proteggerlo perché comunque è plastica è plastica di pochi millimetri e quindi con sia con il freddo con il caldo la grandine adesso in estate arriviamo anche a 50 gradi quindi le plastiche sono molto soggette agli agenti atmosferici quindi per proteggere sia la plastica sia la sigillatura e tutta la parte circostante in modo anche di creare uno strato che quando c'è tanta acqua l'acqua ci scivola attorno oltre a proteggere il fungo l'ariatore stesso andremo a proteggere le sigillature come detto e tutta la parte diciamo a 5 centimetri dall'ariatore ok faremo adesso ho pulito andremo a fare lo stesso lavoro lì e poi anche sullo blog la sigillatura lì l'ho fatta qualche mese fa va bene e andremo a fare lo stesso lavoro anche lì e poi proteggeremo tutto il tetto e la parte posteriore però una cosa alla volta allora questo è un prodotto che io consiglio già altre persone l'hanno utilizzato con questo prodotto qua io ho fatto anche il fondo della roulotte lì da due anni più di due anni va molto bene va bene su tutte le superfici questo addirittura ragazzi lo utilizzano sopra i tetti per impermeabilizzare i tetti è calpestabile è verniciabile in più alla fibra di vetro liquida quindi va proprio a creare uno strato insieme alla guaina della sica che come sappiamo fa il siga flex che è utilizzato molto sui camper e le roulotte quindi oltre al siga flex oltre al terostat andremo a mettere anche la guaina liquida della siga con la fibra di vetro quindi andiamo a creare uno strato protettivo ulteriore quindi questo fungo andrà a durare molti più anni ok e niente seguite i prossimi video così potrete vedere gli sviluppi di tutto il lavoro ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un bel like e al prossimo video ciao ciao